Per presentare il prossimo brano della tradizione trentina, vorrei farvi immaginare la scena. Scusiamo che un ragazzo vada a ballere durante una festa canzante durante la sacra pesana e vede una bella ragazza, allora invadina subito e dice Lo sentiremo in campo questa frase, però in caso della vita sono tanti per cui una ragazza avrebbe potuto qualche dire Succede la vita, ma di questo non voglio parlare di te stasera, per ora potenziamoci di ascoltare la filanella. Scusiamo che un ragazzo vada a ballare 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 Grazie